Il nuovo difensore civico della Toscana è Lucia Annibali, eletta dal Consiglio regionale alla quarta votazione con 23 voti, ex deputata alla Camera entrata in Parlamento nel 2018 con il Partito Democratico e poi passata nel 2019 a Italia Viva, l'avvocatessa Lucia Annibali è nota alle cronache per il suo impegno nel contrasto alla violenza sulle donne e per la sua vicenda personale. Nel 2013 rimase vittima di una vile aggressione in cui fu sfregiata con l'acido sul mandato del suo ex fidanzato Luca Varani. La sua elezione è giunta dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro svolto in Commissione Affari Istituzionali. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo, io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione. Quindi una donna che è avvocato, ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quello della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70 che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. La prima commissione, prima che l'elezione del difensore civico regionale venisse fatta dall'Aula del Consiglio, ha avuto modo di acquisire tutta una serie di curriculum relative a candidature altrettanto spendibili. Ci sono state molte autocandidature da parte di persone che avevano i requisiti per poter ottenere questo incarico, ma altresì sono state fatte designazioni da parte dei gruppi. La prima commissione ha poi elaborato una rosa di nomi che sono stati poi presentati all'Aula al momento della votazione. Un nome indicato dal gruppo misto, dalla consigliera Tozzi, un nome indicato dalla maggioranza, quindi da Italia Vive, dal Partito Democratico e un nome che invece è stata espressione del Movimento 5 Stelle che è l'attuale difensore civico della regione Basilicata. Ritirata la candidatura proposta dalla consigliera Tozzi in Aula, la scelta quindi si è fondata sui due nominativi e alla fine è prevalso il nome di Lucia Annibali, espressione della maggioranza, un curriculum qualificato anche come membro della Commissione Giustizia per un ruolo così delicato come quello del difensore civico regionale. Chi ha proposto la candidatura di Lucia Annibali ha garantito la preventiva rimozione dell'incarico da responsabile regionale del Partito di Italia Viva, quindi questo è elemento rassicurante, non dovrebbero esserci quindi problematiche di questo tipo. Tutti gli altri profili di ipotetica incompatibilità sono stati sconfessati anche dall'istruttoria che è stata fatta nel corso dell'attività in Commissione. Prevale senza dubbio il riconoscimento di una formazione professionale adeguata, Lucia Annibali è un avvocato anche se non esercita, prevale comunque anche l'impegno politico sul fronte della tutela dei diritti, non soltanto per l'esperienza maturata in Parlamento ma anche per il vissuto di carattere personale. Io credo che Lucia Annibali possa essere senza problematica alcuna di conflitto, di posizioni, di carattere politico, un ottimo difensore civico per la nostra regione. Sì, è una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale, perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia. Nel caso di Sidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi aspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze, su colui che, con lei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. La posizione è semplice. Abbiamo, hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata da Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. Una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. La regione toscana per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza, utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Io, l'unica cosa che posso, non conosco personalmente la dottoressa Annibali, ma l'unica cosa che posso auspicare è che la dottoressa Annibali, la prima cosa che faccia, una volta eletta difensore civico della regione toscana, prendere distanze dal partito che l'ha eletta. Perché sentirci dire, oggi in aula, che la maggioranza per nominare il difensore civico non vuole i voti dell'opposizione, non che non prova nemmeno a cercarli, ma che proprio non li vuole, perché se lo scelgono loro, lo nominano loro e non hanno bisogno dei voti dell'opposizione, è un insulto, è uno schiaffo a quei milioni di cittadini toscani che votano centrodestra. Stiamo parlando di un milione di persone che in Toscana votano centrodestra. Io mi auguro, la dottoressa Annibali, la prima cosa che fa, proprio perché non la conosco, ma mi parlano di lei come di una persona autorevole, rispettabile, con un grande curriculum alle spalle, di sicura valenza e validità. Se è vero questo, il primo atto che deve fare è prendere le distanze dal partito che l'ha nominata. Se farà questo, avrà sicuramente un incremento di stima da parte mia. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curriculum arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza. Dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Il dibattito segue delle regole che a mio avviso sono errate perché si ritorna sempre alla solita logica del riempimento di caselle a seconda del peso politico del partito che può decidere in questo caso. In questo caso il partito di maggioranza che non solo non ha fatto un'apertura alle opposizioni per la scelta di una figura super partes ma praticamente a nostro avviso ha seguito una procedura che non è nemmeno regolare e espone questa nomina a dei vizi di incostituzionalità. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico. La sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difenso reciproco è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna prima di tutto. vogliamo dare una donna di altissimo valore qualitativo, umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte. Ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente come capogruppo di Tel Aviv, di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche a mio avviso lungimirazza. Allora sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di sapersi ricompattare. Tutto questo però ha scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo spiccato e questo è quello che invece non è accaduto. Nel lungo dibattito in aula, tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura diciamo del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della Regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centro-destra a questa elezione nulla diciamo eccependo sulla figura per carità della dottoressa Annibali con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e come dire barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque dei grossi motivi di crisi. Nel cortile di Palazzo del Pegaso, sede dell'Assemblea legislativa toscana, è stato appeso uno striscione con i volti, i nomi e l'età dei condannati a morte dal regime iraniano, in seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 7 dicembre, con cui è stato preso l'impegno di intraprendere iniziative di sensibilizzazione, anche mediante l'esposizione di donne e materiali all'esterno delle sedi consigliari, finalizzate a dimostrare la vicinanza delle istituzioni e a sostenere in modo sempre più incisivo la causa del popolo iraniano. Il nostro obiettivo è quello di cercare di dare voce a chi soffre di più e quello che sta accadendo in Iran in questo momento è qualcosa di violento, è qualcosa di drammatico. C'è chi manifesta in piazza per chiedere più diritti, per chiedere libertà e viene invece represso e ucciso con una violenza inaudita. Noi siamo stati la prima regione al mondo, la Toscana, nel 1786 ad abolire la pena di morte e pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente ucciso con la pena di morte dal segno che c'è ancora tanto da fare. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte, non è che avendo risolto un problema da noi il problema non esiste. Dobbiamo lavorare perché la pena di morte sia eliminata da tutti i paesi del mondo, è una battaglia di civiltà e oggi dobbiamo alzare l'attenzione perché si è abbassata troppo l'attenzione su quello che sta accadendo in Iran, sulle violenze che vengono perpetrate nei confronti di tante ragazze, di tanti ragazzi, che chiedono solo una cosa, più diritti e più libertà e quindi siamo al fianco dei movimenti, del movimento Donna, Vita e Libertà che tenta con forza di raccontare quello che sta accadendo e spero che tutto questo non venga dimenticato e che anche i media, tutti, non ci voltiamo dall'altra parte perché è una battaglia di civiltà. Sono qui come membro del movimento Donna, Vita e Libertà di Firenze, di un gruppo di qualche decina di persone, di iraniani, che combattono per dare voce al popolo iraniano che in questo momento sta facendo una lotta esistenziale per libertà e per democrazia, per i diritti umani e per i diritti delle minoranze e come principale scopo abbiamo quello di essere la loro voce e mettere il più possibile pressione sulla politica occidentale che a sua volta metta più pressione sul governo iraniano per spingerla nella direzione giusta. Ad oggi il numero dei condannati a morte è appena sotto 110, quelli confermati, quegli ufficiali e purtroppo da quando abbiamo mandato la grafica di quello sciscione ad oggi 4 almeno di quelli elencati sono stati giustiziati, ingiustamente, solo perché hanno partecipato alle proteste e hanno gridato per la libertà, non hanno fatto male a nessuno, non hanno ucciso nessuno, non hanno distrutto niente che non fosse loro. Il movimento è ancora in vita, ovviamente non è come due mesi fa che ogni giorno c'erano manifestazioni grandi per le strade, anche perché lì fa freddissimo adesso e nevica, però il movimento continua, ci sono le campagne di disobbedienza civile in pieno regime e sta andando avanti e la macchina di oppressione del regime sta andando con tutti i motori accesi, questo significa che loro hanno paura e se hanno paura vuol dire che la minaccia alla loro esistenza è seria ed è quello per cui spingiamo noi. Come Parlamento degli studenti, quindi sotto il Consiglio regionale, siamo stati onorati di poterci mettere in contatto col movimento Donne Vita e Libertà e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. Sì, un messaggio forte, unanime che arriva dal Consiglio regionale della Toscana, la Toscana che è la terra che prima di altri al mondo ha eliminato la pena di morte e la tortura e oggi che tanti ragazzi e tanti ragazzi stanno combattendo la loro battaglia di libertà, noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni, ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia e dalla Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per l'Iran, per tutte le ragazze, i ragazzi che combattono per questa, che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita e credo che possa essere un segnale ancora più forte, quello della richiesta che parte magari dalla Toscana di interrompere, altrimenti le relazioni magari con un paese come l'Iran a livello internazionale laddove non verrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi magari un segnale importante rispetto al riconoscimento della libertà e dei diritti di tanti ragazzi. Una presa di posizione convinta, determinata, a chiedere stop all'esecuzione delle pene capitali, noi possiamo dirlo a maggior ragione perché siamo stati la prima nazione al mondo ad aver abolito la pena di morte. Siamo qui uniti, al di là dei colori delle sigle e delle appartenenze, per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran. non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Ne abbiamo il dovere e ne abbiamo la possibilità. È un tema non solo attuale ma un tema che ci chiama ad una responsabilità nel tenere alta l'attenzione e soprattutto nel testimoniare anche in forza della nostra storia e della nostra cultura quanto sia importante difendere i diritti e soprattutto sostenere anche se a distanza la battaglia giusta la resistenza, direi, dei nostri giorni che i ragazzi, le ragazze iraniane e non solo perché anche le donne afghane e in altre parti del mondo si combatte, si combatte per la libertà e quindi in una terra di diritti come la Toscana viene quasi spontaneo che ci sia una mobilitazione ma che debba essere la più ampia possibile, quindi importante la partecipazione del Parlamento degli studenti ed è importante anche questo scambio culturale con chi vivendo in Italia ma provenendo da quelle zone sta animando questo processo di sensibilizzazione, quindi credo che il Consiglio regionale abbia giustamente recepito questo input, l'abbia promosso e che possa essere questa una scintilla che possa generare una luminosa mobilitazione a giro per il nostro Paese. Esce un messaggio di riflessione, dobbiamo trasmetterlo a tutti, per tutti i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali, tutto quello che è la normalità di una giornata la mattina ci si alza, si sceglie che abito indossare, si sceglie con il gel come pettinarci i capelli si sceglie dove andare a scuola, a chi frequentare, a chi telefonare tutte queste che sembrano delle banalità in qualche parte del mondo per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte. Io credo che questa sia la riflessione da trasmettere oggi a tutti.